Nella chiesa di San Domenico a Taranto la confraternita della Dolorata ha commemorato nei giorni scorsi i sette dolori della Beata Vergine, funzione tradizionalmente legata al venerdì di Passione. Le letture sono state meditate dai novelli diaconi della Diocesi, Luisa Antonio Antonazzo, Alessandro Fontò, Marcello La Carbonara, Damiano Nigro, Marco Peluso, Vincenzo Sgobbio, Francesco Venuto. I commenti musicali sono stati affidati alla corale Alleluia diretta da Michele Riondino. Per l'occasione la statua della Dolorata è stata rimossa dalla sua nicchia e sistemata su un baldacchino affiancato all'altare maggiore con a lato i confratelli in abito di rito. Nella serata del lunedì santo invece, sempre nella chiesa di San Domenico, la commemorazione delle sette parole di Gesù Cristo in croce. Per l'occasione abbiamo ascoltato il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, l'ingegner Raffaele Vecchi. Chi medita queste parole, oltre al padre spirituale Monsignor Morrone, sono dei rappresentanti scelte fra le associazioni laicali della città che operano nel mondo del volontariato, che partecipano attivamente alla vita della chiesa, della Diocesi in Tarantina. Sono delle meditazioni che vengono anche intervallate da dei canti che il nostro coro, il nostro meraviglioso coro della Rettoria ci farà sentire fra una meditazione e l'altra. È una funzione molto particolare perché è la prima innanzitutto della settimana santa, nella vera e propria settimana santa. Ma poi è il giusto completamento di un'altra funzione molto importante che è la compassio virginis, che si tiene invece nella settimana di passione, quindi nella settimana precedente alla settimana santa, che è la funzione più antica e più importante della confraternita dove invece vengono meditati i sette dolori della Vergine. Grazie a tutti.